Controlli mirati e di qualità e la linea guida dell'attività della Guardia di Finanza Molisana. Giamo con pugno di ferro ma guanto di velluto, ha detto il comandante regionale Vito Straziota, elencando i numeri dell'attività svolta nel 2014. Alta e attenta la vigilanza sulla spesa pubblica. 101 i soggetti denunciati per reati legati al conseguimento di erogazioni pubbliche per circa 4 milioni e 300 mila euro. 129 i denunciati per reati contro la pubblica amministrazione come peculato, abuso d'ufficio, corruzione e altro. 97 i soggetti segnalati alla Corte dei Conti per danni erariali per più di 30 milioni di euro. Ci sono molte attività svolte nell'ambito delle due realtà provinciali che toccano ovviamente sia l'utilizzo corretto e la tempistica che deve essere osservata nell'utilizzo della risorsa pubblica ancorché questa venga utilizzata per vari fini oppure investita nella realizzazione di opere pubbliche ma soprattutto poi tocca anche la realtà in termini di appalti proprio per il significato profondo della gestione della risorsa pubblica a vantaggio della collettività. Riguardo le indagini sulle spese dei gruppi consigliari alla regione? Gli accertamenti sui gruppi consigliari sono sicuramente stati quasi completamente definiti e via via rassegnati dall'autorità giudiziaria che in queste settimane sta svolgendo gli opportuni accertamenti per assumere una decisione definitiva sulle singole posizioni. Questo è relativo alla nona legislatura? Esattamente. E per la decima legislatura? I controlli saranno delegati in base alle situazioni che l'autorità giudiziaria ci commetterà. Ovviamente se ci saranno dei riflessi anche in termini di decima saranno valutati dall'autorità giudiziaria e noi riceveremo le deleghe opportune. 92 segnalati per reati tributari per i quali proposto il sequestro per equivalente di beni per un valore di oltre 27 milioni di euro, sequestrati beni per quasi 1 milione e 600 mila euro, 63 gli evasori totali trovati, 114 lavoratori in nero e irregolari, 820 le violazioni per mancata emissione di scontrini ricevute fiscali, 12 negozi chiusi. Quando andiamo a toccare gli effettivi furbetti noi avvantaggiamo la collettività. Continua il contrasto al gioco illegale, poi sequestrati quasi 2 mila chili di hashish e marijuana, 570 grammi di cocaina, 28 grammi di eroina, 8 le persone arrestate, 9 i denunciati per riciclaggio, per somme di denaro intorno ai 300 mila euro, 29 gli accertamenti patrimoniali con sequestri e confische di beni per 140 mila euro, 40 mila articoli con marchi contraffatti sequestrati, trovati 28 mila 500 metri quadrati di discariche abusive e sequestrati infine 500 chili di pesce. Buon appetito! Grazie mille! ete